Meno del governo Berlusconi, Monti e i suoi ministri hanno quasi dimezzato le risorse del Fondo per la non autosufficienza. Da 350 a soli 200 milioni di euro per 25 mila disabili italiani, tanto che un centinaio di malati di SLA aderenti al Comitato 16 novembre sono in sciopero della fame da tre giorni, con la riduzione del 50% dell'alimentazione. Non solo, ma Salvatore Usala, il presidente del Comitato, che nelle scorse settimane aveva ricevuto la visita dei ministri Fornero e Balduzzi in Sardegna, ha annunciato che il 21 novembre si presenterà al presidio davanti al Ministero dell'Economia con solo 5 ore di autonomia. Dopo, tutto dipenderà dal governo e dalle forze che lo sostengono. Ma c'è anche chi si dissocia da queste forme di protesta estrema. La protesta che io definisco civile è una protesta di tipo propositivo, è una protesta che deve portare a un confronto con le istituzioni, ma un'apertura di un tavolo portando la conoscenza, ma la conoscenza non esasperata da un gesto estremo. Con lui, il malato di SLA più conosciuto al grande pubblico, l'ex giocatore del Milan Stefano Borgonovo, che con la sua fondazione Onlus ritiene prioritario favorire il dialogo con le istituzioni e considera che questo sciopero non consono alla gravità della situazione dei malati di SLA.